Roberto Bellini, assessore con delega alla protezione civile, che cosa è stato presentato oggi a Palazzo Belviù? Un alarm system? Sì, abbiamo presentato il programma Alert System, che è un programma gestito da Comunica Italia ed è rivolto alle amministrazioni comunali e alle protezioni civile che operano nel nostro paese. È un sistema che si rivolge direttamente ai cittadini per dare loro informazioni su quanto avviene sul proprio territorio, quindi legato non solo a eventi negativi, nel senso di frane, smontamenti o intenzione di strade dovute a incidenti, ma anche un'informazione dovuta ad esempio chiusura strade per interventi di asfaltatura o di rifacimento marciapiedi, di modifica del traffico veicolare quando vi sono delle manifestazioni. Quindi ci vogliamo rivolgere direttamente ai cittadini con questo sistema di comunicazione telefonica, e soprattutto anche, visto che il nostro territorio è composto anche da parecchie frazioni nell'entroterra, quindi comunicare anche loro, come si è già verificato, per dire la non potabilità dell'acqua, la mancanza di energia elettrica e tanti altri servizi che possono succedere nel corso dell'anno.